Nella zona che va dal porto di Fano fino a Lido, questo fine settimana si respirerà aria di casa. O meglio, aria, l'evento dedicato alla tua casa, arriva al porto di Fano dopo due stagioni al pincio per far respirare ai suoi visitatori l'atmosfera della consapevolezza, quando si parla di ristrutturare, recuperare, arredare o progettare un'abitazione, ma non un'abitazione qualsiasi, la propria abitazione, quella dove ogni giorno rientriamo, quella che vorremmo come tetto per noi e di nostri figli o quella dei nostri sogni. Aria vuole fare tutto questo, formare ed informare tutti noi a 360 gradi sul pianeta casa. Partiamo dalla presentazione di come fare la manutenzione alla classica caldaia di casa per poi arrivare alla presentazione di impianti innovativi completamente senza gas. Poi parliamo di case nuove, parliamo di ristrutturazioni, parliamo di detrazioni fiscali per potersi permettere determinati lavori, insomma parliamo un po' di tutto. E per orientarsi al meglio e capire meglio cosa fa, per sé abbiamo un'aiutante speciale che è Arianna, quindi si va sul nostro sito e Arianna, che è una nostra aiutante virtuale, risponderà alle vostre domande e a quello che state cercando. 40 espositori che abbracciano ogni settore dedicato all'abitazione, a disposizione dei visitatori di questo che sta a metà strada tra la fiera campionaria per addetti ai lavori ed una festa per tutta la famiglia. Mostrano il meglio della produzione che riguarda la scelta dei prodotti per la casa, per vivere in modo sano, ecologico e Arianna è per il terzo anno la proposta che io credo nel nostro territorio unica che coinvolge tutti. Gli organizzatori, come per le passate edizioni, non volendo tradire lo spirito di festa per tutta la famiglia, oltre ad ospitare aziende del settore, hanno allestito incontri e conferenze informative con i massimi esperti di ogni ambito interessato ed aperte a tutti e curando anche l'intrattenimento serale che è parte integrante della proposta di Aria. Sarà una festa per tutti, ci saranno conferenze serie ma non seriose, intrattenimento di vario genere, musica, cultura, con tanti concerti la sera. Quest'anno abbiamo due palchi con due concerti, uno alle 21 e uno alle 22, il concerto alle 21 sul palco del Lido e il concerto alle 22 sul palco centrale nella zona del Faro. Quindi un programma molto completo.